Manca solo l'arredamento e la scuola di Viala Marmora sarà pronta ad accogliere le diverse classi che dal prossimo 14 settembre inizieranno le lezioni del nuovo anno scolastico in una struttura completamente rinnovata. La scuola è prontissima, stiamo aspettando gli arredi, l'assessore Ceccarelli si è attivata già da qualche tempo, l'arrivo è previsto per la prima settimana di settembre, quindi una scuola nuova dal punto di vista strutturale, una scuola nuovissima anche sugli arredi. Dal punto di vista tecnologico all'avanguardia sono previste 12 classi qui, quindi ci saranno 4 corsi, prima, seconda e terza media, c'è una grande collaborazione assieme al dirigente scolastico per quello che è stato il progetto di allestimento della scuola, per questo insomma gli voglio ringraziare, è uno di quegli interventi che rende l'amministrazione particolarmente orgogliosa del lavoro fatto negli ultimi anni. Il nostro bando già prevedeva l'acquisto di banchi singoli, quindi non siamo un peso per la comunità nazionale, devo dire, parlavo con l'assessore Ceccarelli qualche giorno fa e a Pesaro pochissime classi hanno la necessità di nuovi banchi singoli, perché molti arredi, anche la scuola elementare, guardavamo prima di Via La Marmora qui di fronte, ha già tutti i banchi singoli, quindi le nostre strutture sono in gran parte già orgogliose, organizzate per avere il distanziamento. La decisione degli architetti è stata quella di sviluppare una scuola con le vetrate, ovviamente antisfondamento e non con i muri, è un modo anche per vivere questo edificio in maniera differente, molto più luminoso. Dal punto di vista energetico, come dicevamo prima, ci sono sensori in grado di capire quanta aria deve circolare dentro la classe, se ci sono due bambini dentro, se ce ne sono 20, il sistema si comporta in maniera differente. Questo ci ha permesso anche di avere un finanziamento di 800 mila euro dal GSE, appunto perché questa scuola qua ha dei requisiti importanti. Se voi farete un giro poi sull'esterno troverete dei parcheggi riservati per il carpooling, vuol dire che chi va a scuola, non il genitore con un figlio solo, ma accompagna tre o quattro persone a il suo parcheggio riservato, ci sarà la colonnina per le ricariche delle auto elettriche che questo primo periodo sarà gratuito e anche la colonnina per ricaricare le biciclette elettriche o a pedalata assistita, quindi si è voluto guardare avanti, guardare al futuro e continueremo su questo percorso anche nelle prossime opere che andremo a realizzare. In questo momento siamo sulle scale e proprio qui davanti a noi in questo momento c'è una parte semideserta della scuola che però verrà poi colmata dalla costruzione di un'importante palestra. Sì, momentaneamente sarà utilizzata come parcheggio riservato, penso, ai docenti della scuola. Contiamo di iniziare nel giro di qualche mese anche i lavori della palestra, una palestra finanziata in parte con risorse comunali e in buonissima parte ci siamo giudicati un bando della regione, palestra omologata a Coni con 300 posti e sedere che sarà un strumento decisivo per l'attività didattica ma soprattutto anche per Pesaro, città dello sport, la città che fa del turismo sportivo il proprio fiore all'occhiello e saremo in grado di dotare appunto il nostro comune di un'altra struttura di altissima qualità. Se parliamo di spazi in esterna e in chiusura non possiamo non citare anche il tetto e ciò che è stato realizzato sopra il tetto della scuola? Sì, il tetto è molto bello, ho fatto un giro prima, è un tetto verde dove si potranno fare anche delle sperimentazioni botaniche, devo dire anche questo è uno degli interventi all'avanguardia, ci auguriamo che possa essere sfruttato nel modo migliore e che sia ad esempio anche per altri interventi che andremo a realizzare da qui ai prossimi anni.